Grazie molte, sono molto lieto di prendere parte a questo vostro seminario. Ringrazio dunque Andrea che per primo mi ha esteso l'invito. Io non sono pedagogista, insegno però all'università da oltre 55 anni e quindi penso di aver accumulato una serie di esperienze anche perché sicuramente anche a Padova, a Bologna, presso la cui università insegno, da tanti anni si sono stabiliti dei rapporti con gli insegnanti delle scuole medie e superiori e alcuni corsi di laurea, segnatamente quelli di economia, per un interscambio e vedo che stanno dando molto frutto e gli insegnanti sono molto soddisfatti perché vengono nelle aule universitarie e discutono con i professori universitari disponibili e così via. Detto questo, entro nel merito allora del tema che mi è stato assegnato. L'argomento, o se volete la tesi, che vado nel tempo che ho a disposizione a difendere è questa. Se la scuola vuole tornare ad essere luogo di educazione, come storicamente è stato sin dagli inizi, allora non ha bisogno di riforme, ma di trasformazioni. Se invece la scuola vuol continuare, come purtroppo sta ancora avvenendo, ad essere luogo di istruzione, bastano le riforme. Voi sapete che la riforma è una strategia conservativa. I conservatori vogliono le riforme, perché riforma vuol dire dare nuova forma ad una sostanza, ad un contenuto che rimane lo stesso. Se invece siamo non soddisfatti di quello che è attorno a noi, dobbiamo porci il problema della trasformazione. Cioè bisogna cambiare l'impianto, non mettere pezze, cerotti, come si dice, ad un impianto che fa acqua da una parte o dall'altra. Il riformista si limita a questo. Ovviamente, libertà assoluta, uno può stare, però l'importante è non mischiare i termini. Se uno si dichiara conservatore, vorrà le riforme. Benissimo. Se uno invece, come Papa Francesco, si rende conto, se voi fate caso, Papa Francesco non ha usato mai una volta la parola riforme. Guardate il Global Pact on Education, quello che ha pubblicato l'anno scorso, il Patto Globale sull'Educazione. Non c'è una sola volta la parola riforma. Parla sempre e solo di trasformazioni. E ovviamente, dal suo punto di vista, argomenta la cosa, come potete immaginare. Allora, è evidente che adottare l'approccio trasformazionale è molto più impegnativo. Questo è evidente. Perché vuol dire cambiare il vestito, non cucire, mettere del pezzo ad un vestito ormai slabbrato. Ma soprattutto, l'approccio trasformazionale non può pensare di aggiustare le cose nella scuola rimanendo dentro la scuola. Perché chiama in causa i rapporti tra la scuola, il mercato, lo Stato, la famiglia. E questo è il punto. Perché noi possiamo parlare finché vogliamo del mondo della scuola. Ma se, lo dico lì brutalmente, gli stipendi degli insegnanti non vengono adeguati ad un livello che sia decente, è inutile fare leva sui sentimenti morali. Perché le persone con cui io parlo mi dicono no, no, ma io non sono un politico. Le persone con cui mi dicono chiedete sempre di più a noi, capiamo che dobbiamo farlo, però non c'è. Ma questo succede perché? Dico, perché voi volete la riforma. Cominciate a chiedere le trasformazioni. Perché allora a quel punto si devono rivedere i criteri con cui si allocano i fondi pubblici ai diversi comparti. E voi sapete che in Italia i due comparti che ricevono sempre meno sono la scuola e la sanità. E l'abbiamo visto anche recentemente nell'occasione della pandemia della scuola. Quando c'è da operare e taglia la spesa pubblica, scuola e sanità sono i primi esempi. Questo voi capite che se noi andiamo avanti con l'idea delle riforme, questo nodo non si risolverà mai. Perché ti diranno beh, cerca di migliorare, fai questo, fai questa, ed è chiaro che va migliorato. Però bisogna cambiare il contesto. Come faccio ad argomentare qui? Io sono a favore, l'avete capito già forse, dell'approccio trasformazionale. E per farlo, allora, tre argomenti specifici. Primo, voi lo sapete benissimo, istruire vuol dire mettere dentro. L'istruzione è un mettere dentro la testa dell'allievo e dell'allieva tutto quello di cui si è parlato. Educazione, dal latino educere, vuol dire tirar fuori. Vuol dire tirar fuori dalla testa dell'allievo che è stata riempita di conoscenze, di saperi, eccetera, per aiutarlo ad entrare, come si dice, recita la famosa definizione, nella realtà totale. Un po' di anni fa, un vostro collega, Giese, che ha scritto quel libro, La fine dell'educazione. Penso del 1990, quindi 30 anni fa. Io l'ho letto già allora e ho apprezzato la sua onestà intellettuale. Perché lui dice, basta, non si può più parlare di educazione. La scuola deve istruire, non educare. E lui dice il perché. Perché per educare bisogna prendere e scegliere delle precise opzioni di valore. E siccome oggi, nella società, 30 anni fa, e oggi ancora peggio, non si può più parlare di valore, perché il valore è un concetto etico, non è un concetto tecnico. Insomma, le sappiamo queste cose. Allora, nella società del pluralismo, lui sosteneva, non è possibile parlare di educazione. Quindi la scuola sia contenta di istruire, di perfezionare i metodi di insegnamento, di far entrare lo studente, acquisire le nuove conoscenze in ambito tecnico-digitale, eccetera, ma non si parli di... Ecco, l'ho apprezzato, ovviamente, io sono avverso a questo, ma l'ho apprezzato perché ha avuto l'onestà di dire da che parte stava. Perché? Perché l'istruzione ha come obiettivo quello di mirare ad aumentare le capacità dello studente. L'educazione ha come obiettivo quello di aumentare le capabilities, cioè le capacitazioni. E un conto sono le capacità, altro conto sono le capacitazioni. l'istruzione opera sulle cosiddette cognitive skills, cioè sulle abilità cognitive. L'educazione punta alle abilità del carattere, i character skills. Cioè, l'educatore ha come obiettivo di intervenire sul carattere dell'istruttore si limita invece all'aspetto cognitivo. Voi direte, ma questa distinzione oggi è importante, sì, non so, l'avrete letto, ma se non l'avete fatto, leggetevi quel libro fondamentale di Michael Polany del 1962, nel quale lui introduce la distinzione tra codified knowledge and tacit knowledge, cioè conoscenza codificata e la conoscenza tacita. La conoscenza codificata dice Polany, fratello di Carl Polany, che è forse più noto, ma Michael era un filosofo e secondo me merita grande attenzione. È la conoscenza che si può trasmettere per codici. Ecco perché si chiama. E cosa sono i codici? I libri, gli appunti, le slides. Io ti trasmetto questi e tu, studente, le studi bene, le impari e acquisisci quella conoscenza che inizialmente era nella testa dell'autore, dell'autore del libro, delle slide, eccetera. La conoscenza tacita invece non si trasmette per codice ma per contatto relazionale. Ecco perché lui l'ha chiamata tacita. Cioè dire solo se tra la persona del discente o del docente, chiamiamoli come vogliamo, si stabilisce una particolare relazione intersoggettiva, allora è possibile estrarre dalla mente dello studente la conoscenza che alberga in lui. Allora voi capite che ai fini della scuola questo è fondamentale. Prendete voi uno studente che è timido perché è nato in una certa famiglia eccetera, eccetera. Voi lo interrogate e lui non dà il meglio di se stesso e voi cosa gli date? Quattro. È vero o no? Ma dico ma allora vuol dire che tu docente non sei stato capace di estrarre la conoscenza tacita perché tu basi l'interrogazione sulla conoscenza codificata. Eh ma questo evidentemente porta poi alle differenziazioni alcuni le chiamano discriminazione che osserviamo e questo succede perché perché se io mi limito al piano dell'istruzione mi preoccupo solo di aumentare le tue abilità cognitive e non quelle di carattere perché la timidezza ha a che vedere con il carattere non con l'intelligenza. Insomma pensate voi ad altre virtù ci sono io ho insegnato tanti anni in Bocconi a Milano mentre avevo la cate e lì io vedevo subito la differenza tra gli studenti del nord e quelli del sud lo studente di Milano sembrava che sapesse già tutto lui aveva quel modo di fare capite no? Lo studente del sud era intimidito stava se io allora avessi dovuto dare la valutazione in base a quello che veniva esternalizzato capite da soli le implicazioni e allora avevo elaborato un mio metodo per estrarre la conoscenza tacita e alla fine vedevo che queste ne sapevano più degli altri avevano una maggiore profondità di pensiero degli altri che però non riuscivano ad esternarla ecco allora il punto fondamentale questo oggi è massimamente richiesto anche dal mondo del lavoro io non so se voi avete esperienza di come funzionano coloro i quali nell'ambito delle imprese devono fare le assunzioni sappiate questo che nelle assunzioni sono molto più importanti le abilità del carattere che non quelle cognitive e la scuola continua a insistere solo su quelle cognitive ma si può essere arretrati più di così perché ma perché ti dicono se uno non sa che due più due fa quattro se lo impara capite sto banalizzando ma se uno ha un carattere sbagliato che cioè non ha interiorizzato le virtù le quattro virtù cardinali per intenderci e quello non potrà servire e dopo abbiamo le scene che vediamo gente che viene abbandonata che rimane senza lavoro ma non perché non sia intelligente o non sappia la storia la geografia la matematica la fisica eccetera ma perché durante gli anni molto importanti dello sviluppo personale non ha avuto chi lo ha aiutato a sviluppare il proprio carattere ecco quindi perché oggi è questo discorso è soprattutto apprezzato ho contatti con l'università di Harvard faccio parte di un team di lavoro con Harvard con i miei amici e loro me lo dicono Harvard è la prima università degli Stati Uniti forse dicono anche a livello mondiale quindi stiamo parlando di luoghi importanti e loro ti dicono noi puntiamo tutto ormai sul carattere perché con le nuove tecnologie se uno non è stupido del tutto impara da solo ma c'è bisogno di andare a dire che 2 più 2 fa 4 ora entra in rete lì c'è tutto quello che mai potrà ottenere dalle nuove strumentazioni è appunto l'educazione del carattere questo è il primo punto il secondo è quello che riguarda la questione che la scuola è visto dal punto di vista dell'organizzazione la nostra scuola è ancora legata al modello di organizzazione del lavoro taylorista però nessuno vuole che si parli in Italia di questo dopo ci lamentiamo il taylorismo voi sapete nasce nel 1911 quando l'ingegnere taylor americano scrive la sua opera fondamentale all'organizzazione scientifica del lavoro e ha avuto un impatto notevole taylor è quello che inventa la catena di montaggio l'aumento della produttività abbassamento dei costi l'America diventa la prima potenza economica del mondo prima dell'America c'era l'Inghilterra la Gran Bretagna eccetera qual è il principio base del taylorismo principio di gerarchia cosa scrive a pagina 52 del suo testo fondamentale taylor come vanno trattati gli i dipendenti gli operai alla catena di montaggio come se fossero testuale dei bovini cioè l'idea è che il lavoratore non deve pensare perché chi pensa è il capo e il capo dà gli ordini e chi sta sotto deve obbedire perché se chi sta sotto pensa può interrompere la catena di montaggio perché se io sono in questa postazione della catena di montaggio e mi fermo dieci secondi per pensare quello che sto facendo blocco tutto quindi non bisogna pensare e quindi la organizzazione gerarchica ha questo e altre conseguenze di cui non faccio parola per ragioni di tempo ebbene dovete sapere che il modello taylorista inizia nell'industria e il primo fu Ford il costruttore di automobili ecco perché si dice anche Fordismo taylorismo ma poi a partire dal secondo dopoguerra il modello organizzativo taylorista entra negli ospedali e nella scuola gli ospedali hanno esattamente la stessa struttura organizzativa della scuola una struttura in cui cioè il discente deve solo apprendere non deve pensare dove pensare vuol dire produrre un proprio pensiero che può essere sbagliato anzi spesso però vuol dire voi capite cosa vuol dire educare al pensiero critico o no se io dico tu sei discente io ti perfezioni metodi didattici ti faccio tutto però non ti abito a sviluppare la tua capacità critica voi capite che questa persona quando sarà inserita nel cosiddetto mondo del lavoro pagherà conseguenze cosa che stiamo vedendo e come i dati di cronaca e le statistiche ci confermono ad ogni ecco allora capite perché c'è bisogno dell'approccio trasformazionale bisogna che il taylorismo esca definitivamente dalla scuola oltre che dalla sanità perché chi conosce il mondo sanitario capisce bene quello non so se voi avete mai fatto un'esperienza ospedaliera provate il principio è proprio quello lì l'ammalato non può mica chiedere al medico ma mi stai facendo una flema cosa c'è dentro e no non devi saperlo tu ti devi fidare di me so io quello che ti ho messo eccetera poi se qualcuno è carino se qualche medico è carino noi abbiamo una figlia che è me quindi lo dico anche perché conosco lei è anche professoressa universitaria è già primaria al Sant'Orsola di Bologna e quindi come dire e lei ha fatto tesoro un po' di questi concetti e infatti secondo me ha successo anche per questo non perché sia più intelligente degli altri ma perché ha con gli ammalati un rapporto antiteiloristico e il risultato è che ottiene delle conseguenze milioni perché voi sapete che se il paziente l'ammalato coopera con il medico migliora il suo stato di salute questo è dimostrabile la stessa cosa mutatis mutandis vale sul fronte punto educativo ecco allora perché abbiamo bisogno di un approccio trasformazionale perché bisogna cambiare la filosofia della scuola l'impianto il terzo punto quello più delicato ed è questo che per educare bisogna esplicitare qual è il riferimento alla matrice etica alla quale si vuole aderire perché non si parla mai di approccio etico voi sapete che tre sono oggi le grandi matrici etiche l'etica delle virtù l'etica utilitaristica e l'etica deontologica legata a Kant e ad altri eccetera ora ognuno è libero di fare le scelte che vuole però non è libero di continuare a dire stupidaggini facendo credere che si possa insegnare senza dire ex ante qual è la matrice etica alla quale ci si intende riferire vogliamo fare degli esempi un esempio semplicissimo è questo se io aderisco ad una matrice etica utilitaristica l'utilitarismo è una teoria etica non è una brutta parola che nasce in Inghilterra seconda metà del settecento Jeremy Bentham poi si sviluppi in America e altrove eccetera noi italiani per fortuna siamo sempre stati posti al riparo vabbè allora se uno aderisce all'etica utilitaristica imposterà imposterà il piano didattico o di chiamiamolo istruzione insegnamento valorizzando certi principi e valori piuttosto che altri ad esempio insegnerà a competere uno studente compete con gli altri ma se io aderisco all'etica delle virtù che come voi sapete nasce con Aristotele viene poi perfezionata da San Tommaso d'Aquino ed è l'approccio etico di chi si professa cristiano uno non è obbligato a dirsi cristiano che sia ben chiaro però se uno è cristiano non può essere utilitarista perché è una contraddizione in termini perché l'etica delle virtù ha questo elemento che tu come già ci ha insegnato Aristotele sviluppi il tuo potenziale di vita e quindi la eudamonia cioè la fioritura umana come noi traduciamo con la pratica delle virtù allora se io aderisco a una matrice di questo tipo tenderò a trasmettere ai miei allievi non tanto il principio di competizione ma il principio di cooperazione principio di cooperazione io ho avuto la fortuna nelle scuole primarie elementari dalle suore nella mia città io ricordo ancora con teneressa la suora che mi diceva sei Stefano io mi chiamo Stefano tu devi fare i compiti al pomeriggio con Gianluca io non capivo perché dopo l'ho capito però obbedivo perché mi fidavo perché Gianluca era simpaticissimo bravissimo a giocare pallone ma non aveva voglia di studiare però lei chiedendomi a me io avevo voglia di studiare di fare i compiti avete capito voleva che io trasmettessi e infatti Gianluca poi ha smesso non è andato certo all'università però ha fatto un tratto di strada se mi avesse avesse avuto un impianto educativo basato sulla competizione ognuno deve fare per sé ognuno deve superare l'altro ognuno deve avere i voti più alti perché così ha la borsa di studi eccetera voi capite che questo è un impianto educativo diverso da chi invece parte dall'etica delle virtù dove invece il principio base è quello di cooperazione perché voi sapete che la natura ha messo dentro l'essere umano i due principi sia di competizione ma la cooperazione prevale sulla competizione perché la competizione porta alla morte perché la competizione vuol dire che io sono più bravo di te ti vinco tu scompari e rimango io dopo un po' come la parabola di Volterra il grande matematico ci ha insegnato tanti anni fa ha mostrato con riferimento agli animali che vivono nella savana eccetera e la gente mica lo capisce questo ma capite che la competizione lo dico io che sono economista la competizione porta alla distruzione perché ti fa vincere il migliore e gli altri che non vincono vengono allontanati o immarginati la cooperazione invece porta tutti poi è chiaro che ci sono differenze volete che non lo si sappia però intanto tu devi portare tutti a raggiungere almeno un livello e quindi devi fare in modo che chi è più dotato aiuti quelli meno dotati e in questo modo io ci ho rimesso qualcosa ci ho guadagnato perché ho imparato a fare le lezioni già allora perché dicevo se una cosa riesco a farla capire a Gianluca la possono capire tutti capite io non ho diminuito il mio potenziale mettendomi al servizio di quella persona questo è un esempio ma tanti altri potrebbero essere un altro esempio che è ancora più recente sapete che adesso si sta introducendo nelle nuove pedagogie la cosiddetta gamification cioè i serious games gamification vuol dire usare la teoria dei giochi a scopi pedagogico educativi l'ultimo numero della rivista nuova secondaria che conoscerete il direttore il mio amico Bertagna Giuseppe Bertagna ha dedicato un numero monografico alto così appunto alla teoria dei giochi a scopi educativi io dopo l'ho chiamato si chiamò amici e gli ho detto ma ti sei bevuto il cervello dico ma sei matto ma sai qual è teoria dei giochi vuol dire il dilemma del prigioniero il dilemma del viaggiatore e tanti altri io li devo insegnare quindi dico ma non ti rendi conto che la teoria dei giochi come strumento di pensiero e didattico postula di necessità l'adesione all'utilitarismo tu dici che non sei utilitarista e vuoi dire che bisogna praticare capite l'ho già detto uno è libero di essere utilitarista e io ho grande rispetto per gli utilitaristi che sia ben chiaro ho grande rispetto come anche per i deontologisti cioè quelli del deon il dovere obbligato però non è la mia linea con il loro dialogo però quello che non è ammissibile è che uno dichiari di seguire un'impostazione che è quella dell'etica delle virtù e di adottare la teoria dei giochi che oggi è molto sofisticata perché i giochi di laboratorio gli esperimenti eccetera sono andati avanti moltissimo gli americani in questo sono bravissimi anche perché hanno tanti soldi riescono a finanziare i laboratori e così via perché questo crea poi delle dissonanze cognitive ma soprattutto dissonanze educative tra i giovani che i quali e vi do solo questo un esempio un risultato recente ha mostrato che gli studenti universitari di economia in confronto con i studenti universitari di altri corsi di studio hanno un tasso di self interest cioè di egoismo molto maggiore degli altri e dice come mai ma forse che all'inizio non era così e perché forse diventi egoista perché la teoria dei giochi ti dice che se tu non pensi a te stesso e basta e basta non sei irrazionale perché la razionalità consiste nella massimizzazione del self interest cioè dell'interesse proprio disinteressandosi di quello degli altri allora è chiaro che uno per 4-5 anni si sente martellato di questo sapete la metafora quella dell'homo economicus alla fine dirà se per essere razionali bisogna fare così divento così e quando voi fate poi le sperimentazioni vedete che le risposte degli studenti di economia sono diverse da quelle delle altre discipline tipo filosofia lettere insomma è quello che è eccetera eccetera ecco allora un altro esempio che mostra come sia necessario quando si se si vuol parlare di educazione nella scuola decidere di stare da che parte si sta cioè qual è il riferimento valoriale cioè etico al quale uno aderisce perché da questo poi discendono consigli il che non vuol dire che non devi parlare anche io spiego anche l'utilitarismo e come e ci mancherebbe altro però capite che il pensiero critico deve aiutare lo studente a capire la differenza che c'è trattando di questioni economiche se tu segui l'approccio utilitaristico o l'approccio di etica delle virtù e quando tu fai questo vi assicuro io che gli studenti io vorrei farvi leggere i messaggi che si ricevono come dire vanno alle stelle perché mi dicono noi ce l'avevamo dentro non riuscivamo però a dare al nostro sentire interiore una come dire giustificazione tra virgolette scientifica e così via l'ultimo o penultimo punto è quello che riguarda allora la questione che uno si chiede allora che fare a questo punto bisogna aprire un dibattito a livello come dire pubblico nazionale e possibilmente se l'unione europea fosse veramente un'unione europea cosa che non è come sapete purtroppo si dovrebbe parlare in quella sede perché dico questo perché oggi è in atto una una mettiamola per così santo questo termine conazione il termine conazione risulta dalla crasi tra conoscenza e azione questo termine voi sapete è stato cognato da Aristotele 2300 anni fa ed è stato alla base di tutto la scuola eccetera e anche dell'università fino al 1700 poi col 1700 viene abbandonato oggi se voi chiedete dice sai cos'è la conazione non lo sa nessuno ma neanche sentito no forse eccetera che vuol dire che la conoscenza deve essere messa al servizio dell'azione e l'azione non può essere esperita se non su una base di conoscenza il filosofo francese Henri Bergson ha una bella espressione che chiarisce il punto quando scrive Bergson pensa come uomo d'azione e agisci come uomo di pensiero e questo evidentemente la nostra scuola italiana non l'ha mai voluto mai dalla riforma gentile in avanti perché da noi l'unico tentativo a livello universitario che è stato fatto dalla riforma Gelmini è la cosiddetta alternanza scuola-lavoro che è una bestemmia perché parlare di alternanza scuola-lavoro vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro o no se le parole hanno un senso bisogna parlare di armonizzazione scuola-lavoro perché il mondo della scuola deve armonizzarsi perché altrimenti la scuola sarà sempre succube delle esigenze prima l'ha detto una professoressa che è andata via quando me la sono segnata quando ha detto dobbiamo inseguire la modernità oppure questo è il rischio perché se noi non parliamo di armonizzazione e parliamo di alternanza è chiaro che il mondo del lavoro che vuol dire il mercato mercato di tipo capitalistico finirà col dominare la scuola e farà fare alla scuola quello che interessa al mondo dell'impresa d'altra parte se non si va in quella direzione il rischio è di portare giovani a 25 anni con la laurea i quali poi rimangono senza lavoro basta leggere le statistiche ma perché perché si è separato in maniera artificiosa artificiale il momento della conoscenza dal momento dell'azione ma i due momenti devono essere e lo diceva Aristotele sono le due facce della stessa medaglia perché una conoscenza che non è finalizzata all'agire rimane astratta e quindi non viene né interiorizzata né serve agli scopi e viceversa un agire che non ha un fondamento conoscitivo si traduce in mera pragmatismo con le conseguenze che sappiamo eccetera ecco allora vedete perché è necessario secondo me aprire un dibattito proprio di alto profilo su questo se vogliamo torno a quello che ho detto all'inizio che la scuola sia luogo di educazione se invece ci accontentiamo una scuola luogo di istruzione allora andiamo avanti perfezionando questo quell'altro e così via l'ultimo punto è il seguente voi sapete che oggi a livello mondiale si stanno confrontando anzi scontrando due progetti di altissima cultura l'uno è il progetto transumanista e l'altro è il progetto neoumanista il progetto transumanista ha cominciato a muovere i primi passi all'inizio di questo secolo quando in California venne fondata la University of Singularity l'università della singolarità andando a casa digitati su google University of Singularity e dopo ve ne accorgerete perché è un'università che è finanziata dalle grosse corporation che si chiamano Google Apple Amazon quelli che conoscete quindi è una barca di soldi e riescono ad attrarre le migliori teste in giro per il mondo e qual è l'idea chiave del progetto transumanista trans in latino vuol dire oltre di arrivare entro il 2050 a rendere l'essere umano obsoleto cioè non a farlo scomparire ma rendolo totalmente irrilevante e il capo fondatore di questa università ed è anche il capo la guida diciamo culturale scientifica è Ray Kurzweil con la K che è nativo tedesco però sta là ormai da tanto tempo e Kurzweil lo dice dice io entro il 2050 devo arrivare a mostrare coi fatti che l'essere umano non serve a niente non c'è bisogno come dire è come una specie di vegetale che è lì perché faranno tutte i robot dotati della intelligenza artificiale di quarta generazione ora siamo l'intelligenza artificiale di seconda generazione lui ha fatto i suoi conti dice entro un po' meno di 30 anni arriveremo a quel punto cosa vuol dire quarta generazione che l'intelligenza artificiale si accompagnerà alla coscienza artificiale e nel momento in cui si arriva vuol dire che la macchina ha completamente sostituito l'umano l'uomo fin tanto che si trattava di intelligenza c'era sempre la coscienza ma nel momento in cui tu crei la coscienza artificiale arrivi a dire che eccetera ora voi capite le implicazioni i cristiani ma non solo i credenti in generale sono preoccupatissimi di tutto questo perché questo sta realizzandosi e sta entrando nelle scuole in tutte le forme immediate vedete l'ipocrisia perché allora certi docetti non dicono io sono a favore del transumanesimo stanno zitti però ragionano in quel senso ti introducono in maniera sorrettizia prima ho fatto l'esempio della teoria dei giochi adesso introducono altre come dire tecniche di pensiero di cui non ho tempo qui di parlare però l'obiettivo è quello il progetto alternativo è quello neo-umanista che è quello al quale chi è portatore di una visione del mondo di una fede che sia cristiana o in questo caso musulmana non fa di che è portatore di una fede trascendentale ovviamente osteggia cioè il neo-umanesimo è l'antitransumanesimo perché neo-umanesimo l'umanesimo l'abbiamo inventato noi italiani 1400 Toscana eccetera il rinascimento e l'idea è quella di come dire aggiustare aggiornare alle condizioni correnti ai principi dell'umanesimo che mettono al centro la persona ma voi capite che se si va avanti su quell'altra sponda come fate a parlare di centralità del discente non ha senso lo si può usare come parole ma in effetti non è così ecco quindi perché oggi parlare della scuola che educa come il titolo di questo seminario è molto importante e voi avete fatto bene a mettere questo titolo e con tutto ciò che questo comporta perché oggi il tema della scuola va al di fuori del recinto scolastico ma perché chiama in causa i rapporti l'ho detto all'inizio col mondo del lavoro ma perché la scuola deve essere succube delle esigenze delle imprese e non viceversa vorrei che qualcuno mi rispondesse a questa domanda perché i managers dicono noi abbiamo bisogno di questi profili professionali ai quali offrire il mio lavoro e allora le scuole devono andare e la dignità io faccio l'economista con me c'è un buono ho provato ma gliene ho dette sempre di tutti i colori a qualcuno li ho persino picchiati quindi imparano ma dico ma come ti permetti tu perché hai i soldi vuoi imporre a me che di dare che lei se insegnasse nei suoi corsi questo e questo e questo ah sì dico interessante questa si chiama servitù e allora la dignità di un docente doveva finire questo che sto dicendo si nota più all'università lo capite che non nella scuola dell'obbligo la scuola a media superiore però a calare arriva poi anche a quel livello e così via ecco quindi perché è oggi importante parlare di questi argomenti perché parlare di un processo di trasformazione della scuola vuol dire mettere in discussione i rapporti l'ho già detto tra scuola mondo del lavoro mondo della politica e i politici devono smettere di pensare alla scuola come quelli che come dire a capo come appunto i bovini di cui ha parlato anzi di cui ha scritto Taylor sempre pronti al massimo si fa qualche protesta poi ho visto che adesso vi hanno aumentato di due euro un po' lo stipendio e così via che è un modo veramente avvilente di trattare le questioni voi direte in conclusione si riuscirà io posso saperlo non ho la non ho la magia però vedo che i segni di insoddisfazione nella nella situazione nei confronti di quanto sta accadendo stanno aumentando e sono tanti ormai i centri di ricerca persone anche autorevoli che si pongono il problema perché badate che il progetto transumanista è veramente pericoloso è veramente credetemi è veramente pericoloso ma è pericoloso per chi ovviamente ha una certa concezione dell'uomo e della realtà se uno mi dice a me va bene così non faremo niente faranno tutte le macchine penseranno loro eccetera eccetera e soprattutto chi non ama la libertà gli va bene quel progetto e così via però ho motivo di ritenere che questo non potrà avvenire ciò però non ci esime dal rimboccarci le maniche e tornare con dignità a far ascoltare la nostra voce questo è l'augurio sincero che rivolgo a voi che appartenete a questo mondo della scuola e nei confronti del quale io ho grande ammirazione e veramente nei limiti che posso non faccio mai mancare il mio sostegno grazie allora ringrazio anche il professor Stefano Zamagni che ci ha portati alla conclusione di questo nostro percorso con una riflessione di alto profilo che richiama e sferza le nostre coscienze esortandoci a mantenere un'attenzione vigile su quelli che sono anche i grandi trend culturali che possono entrare anche sotto mentite spoglie nel mondo della cultura nel mondo dell'economia nel mondo della scuola ma tra i vari segnali anche di speranza che ho potuto cogliere nell'intervento franco schietto e quindi in questo senso anche molto diretto di Stefano Zamagni ce n'è uno in particolare che volevo rilanciare da un lato il mondo del lavoro chiede più character skills che cognitive skills dall'altro lato chi si orienta in un certo modo dal punto di vista etico pedagogico si orienta all'etica delle virtù che è proprio quell'etica che più può produrre più può generare queste character skills che in certa misura anche la parte più avvertita consapevole illuminata del mondo del lavoro sostanzialmente richiede quindi in questo senso possiamo creare una buona alleanza tra tutti coloro che condividendo un progetto neo-umanista e non transumanista come giustamente ci è stato detto quindi creare una buona alleanza tra tutti coloro che individuano anche nella complessità magmatica del mondo culturale in cui viviamo alcuni punti di convergenza e una volta individuatili non se li lasciano scappare perché possono diventare il cuore e il centro di queste nuove alleanze grazie Stefano io vi chiedo sinceramente scusa ma vi devo allontanare che devo prendere il treno perché Andrea ha detto che io non devo mangiare voi adesso andate a mangiare io non mangio no mi dispiace davvero sarebbe stato bello avere un po' più di tempo per discutere magari ci sarà un'altra occasione arrivederci grazie Stefano di nuovo ci vediamo ciao